Un patrimonio da difendere per lo sviluppo turistico di questa provincia parte da Avellino, la nuova battaglia contro la regione che continua a penalizzare le zone interne della Campania. Questa mattina il Consiglio Comunale straordinario che ha votato un documento di protesta contro le scelte miopi di Palazzo Santa Lucia. Da una parte si taglia la linea ferroviaria, Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio, ultimo collegamento che taglia i monti dell'Irpinia. Dall'altro si dimentica il progetto da 100 milioni che coinvolge 36 amministrazioni comunali con il quale si potrebbe rilanciare lo sviluppo turistico di questa provincia. Pietro Mitrione con l'associazione In Locomotivi ha dimostrato che l'Avellino-Rocchetta può funzionare per lo sviluppo turistico. Rispetto a quello che sta avvenendo c'è da attendere il sipoglio dal punto di vista del problema delle ferrovie nella nostra provincia. Basta pensare che siamo l'unico capoluogo della Campania a non avere un collegamento con Napoli. Si parla tanto di sviluppo turistico ma poi ne fatti non si fa nulla. La regione Campania non si capisce perché ha abbandonato il progetto La Via del Vino tra i castelli dell'Irpinia Verde. Un caso clamoroso sollevato dal quotidiano Buongiorno sul quale ora gli amministratori irpini vogliono vederci chiaro. A cominciare dal sindaco di Avellino Giuseppe Calasso. Noi dobbiamo considerare che già c'è un progetto relativo a 35-36 comuni che ha l'attenzione del Cipe e c'è un dossier preparato anche da un quotidiano locale sull'argomento. Quindi abbiamo tutti gli elementi per poter sostenere la validità della difesa di questa linea. Nel documento letto in aula dal presidente del Consiglio Comunale Antonio Gengaro si chiede al governatore Caldoro di impedire la soppressione della linea Avellino-Rocchetta e di rilanciare la tratta a fini turistici. Invito rivolto anche al presidente della provincia Cosimo Sibilia per un confronto con tutti i soggetti competenti per il rilancio del trasporto su ferro in provincia di Avellino. Mentre il sindaco Calasso è stato impegnato dal Consiglio Comunale a promuovere tutte le iniziative per difendere la ferrovia di Avellino. Noi rilanciamo il discorso del diritto della città capoluogo della provincia di Avellino ad uscire dall'isolamento e ad essere collegata attraverso l'alta velocità e l'alta capacità ai grandi assi ferroviari del paese.